Orca miseria, maledetti di Shutterstock mi hanno rifiutato un'altra foto. Vi suona familiare questa scena? È successo anche a voi, è successo a tutti quelli che si sono cimentati nella pratica della fotografia di stock e di microstock, di vedersi rifiutare le immagini con le motivazioni più fantasiose. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e stasera vi parlo proprio di questo, di come sopravvivere al mercato del microstock. Sì, perché dovete sapere che operando in questo settore ormai da diversi anni mi sono reso conto di come sia assolutamente impossibile caricare le nostre immagini su questi siti e vedersele semplicemente accettare perché sono buone. Ho riscontrato più e più volte come le immagini venissero rifiutate per dei problemi assolutamente inesistenti. Mi sono imbattuto in nuovi utenti a cui io stesso avevo raccomandato di tentare la via del microstock che si vedevano sistematicamente rifiutare ogni singolo upload semplicemente per il fatto che erano nuovi appena arrivati e quindi la piattaforma non li considerava degni di nota e un po' per metterli alla prova e forse un po' anche per scoraggiarli gli rifiutava via via tutti i materiali che caricavano. È una cosa in cui probabilmente mi sono imbattuto anch'io quando ho mosso i primi passi all'interno di queste realtà. Adesso non me lo ricordo nemmeno più perché ormai di tempo ne è passato ma sicuramente era successo anche con le mie. Il punto qual è? Le piattaforme di microstock hanno sistemi diversi per cercare di capire se le nostre immagini sono abbastanza buone per i loro standard. Alcuni di questi sistemi dipendono da un operatore umano ma molti, anzi mi verrebbe da dire la maggior parte, dipendono da un controllo elettronico, da un calcolatore. Esistono degli algoritmi che stabiliscono se la nostra immagine è troppo carica di rumore ne esistono degli altri che individuano volti, persone, cose scritte e in base alla presenza o meno di questi elementi decidono se la nostra foto viene passata a un livello di filtraggio successivo dove viene magari esaminata da un operatore oppure viene fatta passare direttamente all'interno della library della piattaforma in questione. Quali siano i criteri con cui questa selezione viene fatta non ci è dato ovviamente sapere. Quello su cui possiamo operare un controllo è in generale la qualità e il contenuto del materiale che sottoponiamo. Oggi sono qui per portarvi la mia esperienza in maniera tale che cerchiate di commettere il meno possibile errori che ho commesso anch'io e che continuo a commettere per carità perché tanto gli errori per fortuna sono l'unica cosa rimasta che è ancora gratis. Però ecco appunto, raccontandovi le cose che ho capito nel corso di questi anni, forse vi risparmio un sacco di perdite di tempo. Andiamo a incominciare e vi racconto quali sono alcuni dei motivi per cui le nostre immagini possono essere sistematicamente rifiutate sulle piattaforme di microstock. Motivo numero uno, come già detto, vi siete appena iscritti, avete appena fatto l'iscrizione e non avete nessun materiale caricato. È evidente che la piattaforma non ha un'alta considerazione di voi. Anzi, vi considera dei novellini che probabilmente caricheranno 6-7 foto, dopodiché vedranno che non hanno venduto niente e se ne andranno. A questo punto la piattaforma non ha nessun interesse a trattarvi bene, perché sostanzialmente siete una fonte di fastidio e poco più. Per questo motivo la maggior parte delle immagini che caricate all'inizio verrà rifiutata anche se sono eccezionali, anche se sono scattate con strumentazione adeguata, anche se sono scattate con ISO bassi in condizioni di illuminazione perfette. Ho veramente riscontrato questa cosa per cui molte, molte immagini verranno rifiutate semplicemente perché siete nuovi. L'importante è non farsi scoraggiare da questa cosa perché è temporanea. Nel momento in cui la piattaforma si rende conto che caricate e caricate con continuità, questa cosa si sblocca. Per cui l'importante è non prendersela subito perché molte immagini, magari le vostre migliori immagini, verranno rifiutate con delle motivazioni assolutamente fasulle del tipo c'è troppo rumore, la composizione non è adeguata, l'orizzonte non è dritto, la foto ha scarsa rilevanza economica. Sono tutte motivazioni, a mio parere, assolutamente fasulle che la piattaforma vi rifila di default per scoraggiarvi perché siete appena arrivati. Quindi se non vi fate scoraggiare da questa barriera in ingresso, diciamo che siete già a metà dell'opera. Un altro motivo per cui le nostre immagini possono venire rifiutate è che effettivamente le immagini non sono buone, perché attenzione, io do per scontato che chi mi sta seguendo faccia tutto quello che deve fare per produrre delle immagini di buona qualità. Le piattaforme di microstock al contrario danno per scontato che noi gli rifiliamo le peggio schifezze e per questo motivo mettono in atto tantissimi step di controllo per verificare la qualità e l'integrità del materiale che gli inviamo. Quindi anche se io do per scontato che nel momento in cui qualcuno che ha seguito i miei contenuti cercherà di fare del suo meglio per caricare dei materiali di ottima fattura, dobbiamo essere consapevoli che questo potrebbe non essere sufficiente, perché a volte il nostro meglio non è sufficiente. E vi faccio un esempio su tutti. Se state scattando con uno smartphone come vostra unica e prima camera, probabilmente potrete incorrere in diverse difficoltà. Questo perché è vero che gli smartphone fanno delle buone foto, è vero che soprattutto gli ultimi modelli come l'iPhone 14 Pro fanno delle foto veramente molto molto belle. È vero anche che molto spesso questo molto molto belle non è minimamente sufficiente per soddisfare degli standard professionali. Quindi nel momento in cui operiamo in un ambito professionale come quello della fotografia di microstock, una foto fatta con lo smartphone potrebbe non essere sufficiente e potrebbe essere respinta giustamente perché non rispetta determinati requisiti. Ora io vi posso dire che questi requisiti cambiano in base alla piattaforma su cui carichiamo i nostri materiali in base al giorno della settimana, in base al soggetto e in base all'ora del giorno in cui la carichiamo. Quindi è una cosa da prendere con le molle perché ogni tanto ve la respingono e ogni tanto ve la accettano. Per cui il mio consiglio è provateci perché magari una foto un giorno viene rifiutata, magari la stessa foto un giorno dopo sarebbe stata accettata. Quindi vale la pena provarci per scoprire la piattaforma su cui state caricando, come reagisce al materiale che voi inviate. Detto questo è pacifico che se una foto è fatta male, se è composta male, pensata male, se ha scarsa rilevanza economica, se è illuminata male, se è esposta male ed è piena di rumore è molto probabile che verrà rifiutata sempre in qualunque circostanza. Quindi ovviamente la prima cosa da fare è cercare di farla meglio che possiamo perché la piattaforma di microstock vuole vendere le nostre immagini ma se noi le facciamo male non la stiamo aiutando a commercializzare il nostro prodotto. Quindi dobbiamo cercare di farle meglio che possiamo. Meglio che possiamo vuol dire che non dobbiamo comprarci una Hasselblad da 40.000 euro. Però un iPhone non è il meglio che possiamo fare, nella maggior parte dei casi non lo è. Oddio, se siamo in ristrettezze economiche e siamo riusciti per il rotto della cuffia a comprarci uno smartphone e non abbiamo i soldi per la macchina fotografica, quello è un conto e assolutamente ci sta. Diciamo che se vogliamo entrare con prepotenza in questo mondo, entrare con lo smartphone non è proprio un ingresso a effetto, è proprio entrare dalla porta di servizio. Quindi va bene provare a caricare i lavori con lo smartphone, però dobbiamo essere preparati al fatto che chiunque abbia una fotocamera probabilmente ci sorpasserà sia nelle vendite che nel ranking della piattaforma di microstock perché fa immagini migliori delle nostre nella maggior parte dei casi, quindi anche questo va detto. Un altro motivo molto antipatico per cui le nostre immagini possono venire rifiutate è per la descrizione e le parole chiave. Allora, il 90% delle piattaforme di microstock ha dei sistemi interni di traduzione, eppure molte di queste piattaforme continuano a pretendere la descrizione e le parole chiave in inglese. Questo perché il motore di ricerca interno si basa sulla lingua inglese, quindi anche se esistono dei meccanismi di traduzione simultanea interni, che probabilmente utilizzano l'algoritmo di Google Translate, intendiamoci, però esistono dei meccanismi di traduzione interni per cui se io faccio una ricerca su una piattaforma di microstock e la faccio nella mia lingua, quindi l'italiano, la piattaforma capisce cosa voglio dire e mi restituisce i risultati corretti. Se io la faccio dal Giappone e scrivo in giapponese, uguale, la piattaforma capisce e mi restituisce i risultati corretti. Però la piattaforma raramente accetta che io immetta la descrizione nella mia lingua nativa, la vuole in inglese, quindi questo per molti è un problema e mi ci sono ritrovato anch'io perché io l'inglese lo so, non ho grossi problemi, lo parlo, lo scrivo, lo capisco, non ho grossi problemi. Il mio vero problema è con l'accento di Londra. Quando parlo con un inglese di Londra faccio una fatica bestiale perché io ho imparato l'inglese nei film, quindi i film sono americani, quindi io ho l'americano in testa più che l'inglese, quindi quando parlo con un inglese di Londra faccio una fatica bestia, però a scriverlo non ho grossi problemi. Ciò nonostante, anche se non ho grossi problemi, ho spesso riscontrato che non è facile descrivere una mia foto per un calcolatore, perché alla fine è un computer che ricerca queste parole chiave, quindi io devo cercare di fare della SEO, che è l'ottimizzazione per i motori di ricerca, sulla mia immagine, quindi devo descrivere quello che si vede nella mia immagine per far sì che anche un computer sia in grado di capirlo. Un computer è anche un essere umano, perché poi la ricerca la fa un essere umano. Ora, questo è un discorso basato sulla SEO, quindi sulla ricerca delle immagini, e ha un suo coefficiente di difficoltà. Però aggiungiamoci un'altra parte di coefficiente di difficoltà, nel senso che se io sbaglio qualcosa, se io uso una parola ambigua, se uso una parola magari con un doppio significato, o se uso una parola inflazionata, che magari non ha troppa attinenza con la mia immagine, e questo può succedere, perché alla fine l'inglese non è la mia lingua, quindi io cerco di tradurlo, ma magari un inglese madrelingua avrebbe usato degli altri termini, quindi io posso sbagliare. E se il mio errore è, secondo la piattaforma, fuorviante, la mia immagine è rifiutata, automaticamente, perché ho usato una parola chiave che secondo lui non va bene. Questo è veramente seccante, perché significa che dobbiamo ricaricarla e cambiare la descrizione, e quindi ci ha fatto buttare un sacco di tempo. Questo è seccante da matti, però consolatevi, perché col tempo comincerete a capire quali sono i termini che è meglio non usare, quali sono le parole chiave che lui considera ambigue, e soprattutto comincerete a prendere un po' di confidenza con quello che è il vostro contesto abituale di shooting, nel senso che se fate paesaggio comincerete a vedere che ci sono delle parole chiave ricorrenti che usate sempre e che non vi danno problemi se fate ritratto. Stessa cosa, comincerete a vedere che c'è una serie di parole che usate di frequente e che non vengono respinte, a quel punto sapete che con quelle andate sul sicuro. Sempre parlando di parte testuale, descrizioni, eccetera, andiamo a vedere un altro motivo che molto spesso causa dei respingimenti dei nostri file da parte della piattaforma, che è la parte editoriale. Alcune piattaforme di microstock ci consentono il caricamento di contenuti editoriali, altre no. Per quelle che lo consentono, per cui sto pensando per esempio ai stock oppure a shutterstock, che la maggior parte delle piattaforme hanno questa possibilità. Molte non ce l'hanno ancora. Un contenuto editoriale fondamentalmente è l'opposto di un contenuto creativo, cioè un contenuto creativo è una foto o un video che chiunque può usare per promuovere la propria attività. Al contrario, un prodotto editoriale, quindi una foto o un video editoriale, è un file che può essere usato solamente per fini editoriali. Quindi una foto, per esempio, di Piazza del Duomo può essere usata per parlare della città di Milano, per parlare del Duomo, per raccontare un evento, una rassegna, qualcosa di questo tipo, ma non può essere utilizzata per mettere la pubblicità della Coca-Cola enorme nel cielo sopra il Duomo di Milano. Quindi la differenza è questa. Contenuto creativo può essere usato dai brand, dalle aziende, dai privati, da chiunque per pubblicizzare qualcosa. Mentre i contenuti editoriali possono essere utilizzati solamente per parlare di quella cosa specifica che si vede all'interno del contenuto. Quindi se io faccio una foto del mio cellulare, è un contenuto editoriale, perché si riconosce che è un cellulare di una determinata marca, si vede il logo e quindi questa foto del mio cellulare può essere usata solo per parlare di quel cellulare o di un altro cellulare se qualcuno sbaglia a scaricarla. Però avete capito il concetto, cioè un'azienda concorrente Samsung non può prendere la mia foto di un iPhone e usarla per farsi una pubblicità. Così come Coca-Cola non può prendere una foto editoriale di Piazza del Duomo con tutta la gente sotto, gente con le facce riconoscibili, non può mettere la propria pubblicità nel cielo sopra la Piazza del Duomo. Quindi sono due tipi di contenuti diversi. Ora i contenuti creativi sono un pochettino più facili da caricare perché la descrizione è quella e quindi una volta che io ho inserito una descrizione sicura con delle parole chiave che conosco, che so che mi vengono accettate, la carico e sono abbastanza sereno. I contenuti editoriali sono un po' più capricciosi perché la maggior parte delle piattaforme che li accettano pretendono delle informazioni un po' più precise a questo proposito, visto che il contenuto è editoriale, quindi visto che raffigura delle persone riconoscibili senza liberatoria, come possono essere persone in strada in una piazza famosa, oppure monumenti, sempre se siamo in una piazza c'è un monumento, oppure degli avvenimenti come può essere una manifestazione, oppure un prodotto riconoscibile come può essere per esempio un telefono. In questo caso le piattaforme pretendono che sia indicato il luogo e la data in cui viene realizzato il contenuto e ci deve essere anche una descrizione molto più precisa e puntigliosa. Quindi se io faccio una fotografia di Piazza del Duomo non è sufficiente che scrivo Piazza del Duomo, io devo scrivere Milano, Italia, trattino la data e la data con il formato inglese, quindi devo scrivere per esempio Ottobre 30,2002, due punti, dopo i due punti va la mia descrizione e non è sufficiente che scrivo Piazza del Duomo di giorno. Devo scrivere Vista dalla strada di Piazza del Duomo durante una giornata d'autunno con il cielo coperto sono visibili delle persone. È molto importante questa cosa, segnalare sempre anche nel testo se ci sono delle persone visibili e riconoscibili. È importante perché spesso le foto vengono rifiutate perché queste informazioni mancano, spesso io stesso mi vedo rifiutare delle foto con la motivazione che la descrizione non è abbastanza accurata. E lì tiro un sacco di parolacce e la ricarico aggiungendo una riga di descrizione. L'importante è cercare di essere più esaustivi possibile, bisogna dare una descrizione completa in inglese perché altrimenti la foto rischia di essere rifiutata. Con le editoriali bisogna stare molto molto più attenti. Non solo, se nell'editoriale è presente un prodotto riconoscibile come un cellulare col marchio Apple per esempio, non è sufficiente farsi tutta questa trafila che vi ho appena detto, bisogna anche inserire la parola chiave illustrativo-editoriale. In inglese illustrativo-editorial, insomma dipende dalla piattaforma, però è obbligatorio. Questo passaggio è obbligatorio, vi parlo per esempio di Shutterstock su cui questa cosa è obbligatoria, altrimenti vi rifiutano l'immagine con la sola motivazione che manca la parola chiave illustrativo-editoriale. Quindi bisogna ricordarsi tutte queste cose tutte le volte ed è diverso da piattaforma a piattaforma, bisogna prenderci un po' la mano, altrimenti ve le rifiutano sistematicamente e non riuscite a caricare magari una foto buona che vi fruttava dei soldi, quindi è importante saperle queste cose e nessuno ve le spiega. Continuiamo a parlare di fotografia editoriale e cerchiamo di tracciare una linea di demarcazione tra quello che è editoriale e quello che è creativo, perché spesso non sarà chiara nemmeno a voi questa distinzione e quindi deciderà per voi la piattaforma. Vi faccio un esempio, voi fotografate un cellulare su cui si vede chiaramente il logo della Apple e lo caricate come creativo, quella foto verrà sistematicamente rifiutata perché è visibile un logo. Nella spiegazione del rifiuto probabilmente vi verrà segnalato se la piattaforma è brava, vi darà la motivazione corretta e vi dirà questa foto viene rifiutata perché avreste dovuto metterla come editoriale. Allora voi, dicendo un sacco di parolacce, la andrete a caricare come editoriale. La volta successiva ve la rifiuteranno perché avete dimenticato la data, allora metterete la data, la volta successiva ve la rifiuteranno perché non avete messo illustrativo-editoriale dentro nelle parole chiave dell'immagine. Quindi su tre tentativi alla fine abbiamo capito tutti gli errori che stavamo facendo e siamo riusciti a metterla dentro correttamente. Quindi abbiamo stabilito che questa immagine era editoriale perché si vedeva il logo. Ok, ma se io prendo la stessa foto dello stesso telefono e rimuovo il logo con Photoshop per esempio e provo a ricaricarla come creativa, qui è molto dubbia la cosa perché certe volte la piattaforma ve la accetta, certe piattaforme ve la accettano perché il logo non c'è, quindi potrebbe essere un telefono generico. Alcune piattaforme ve la accetteranno come creativa, altre ve la rifiuteranno perché è evidente dal design del prodotto che è un prodotto Apple anche se il logo è oscurato. Quindi bisogna fare questa prova, bisogna cercare di capire quale piattaforma ce l'accetta e quale no. Per fortuna non c'è penale se sbagliamo perché semplicemente la foto viene rifiutata. Quindi è una cosa che vale la pena tentare. Tenete anche conto che a parer mio se il cellulare è un prodotto Apple è meglio caricarla come editoriale in modo che venga comprata da chi cerca effettivamente un prodotto Apple piuttosto che cercare di farla passare per un prodotto neutro. Perché se riusciamo a farla passare per un prodotto neutro significa che non possiamo mettere nei metadati iPhone, Apple, non possiamo mettere nelle parole chiave che è un iPhone. Quindi passerà per un cellulare generico e quindi tutti quelli che cercano un iPhone troveranno le foto di un iPhone e di chi le ha messe editoriali potendo quindi mettere la parola chiave iPhone e la parola chiave Apple. Quindi questo è semplicemente il mio parere. Poi provate, fate i vostri tentativi, ma secondo me conviene che una foto che nasce come editoriale venga effettivamente caricata come editoriale altrimenti sì l'abbiamo caricata lo stesso come creativa ma non ci abbiamo guadagnato niente e non possiamo più smerciarla come una foto di un prodotto Apple. Quindi secondo me non ne vale la pena. Un altro caso un po' dubbio dove dobbiamo capire se la foto è creativa o editoriale è una foto della nostra città. Perché io posso fare una foto della mia città in cui non c'è nessuno e in cui magari non c'è nessun brand. Non si vede il manifesto della Coca Cola enorme in Piazza San Babila. Quindi magari è una foto della mia città dove non c'è niente di riconoscibile e quindi io potrei provare a caricarla come creativa. Però anche qui potrebbe venirmi rifiutata perché magari si vede qualche edificio riconoscibile che magari è di qualche architetto e magari quell'edificio deve andare per forza sotto la dicitura editoriale. Anche in questo caso l'unico modo per saperlo è provarci. Io vi invito a provarci perché dovete provare a vedere se ve la accettano come creativa o se la preferiscono editoriale. Non è detto che sia meglio farsela accettare come creativa perché soprattutto se è una foto della nostra città è molto probabile che venga comprata per utilizzi editoriali. Quindi non ci perdiamo granché a farla passare come editoriale. Se viene rifiutata come creativa proviamo a ricaricarla come editoriale e probabilmente verrà accettata a patto ovviamente che inseriamo la dicitura corretta, le descrizioni giuste e tutto quanto sia fatto secondo le loro regole. Parlando di edifici riconoscibili, di luoghi riconoscibili o di persone riconoscibili, certe volte le nostre immagini possono venire rifiutate perché manca la liberatoria. La liberatoria può riguardare le persone. Se fate una foto in cui ci sono anch'io e volete venderla come creativa dovete chiedermi il permesso perché è sfruttamento della mia immagine. Quindi non fatelo. Non do il permesso a nessuno. Il concetto è chiarissimo. Se io voglio fotografare una persona e guadagnare dei soldi sulla foto che ho fatto di quella persona devo chiedere il permesso a quella persona per vendere la sua fotografia. I diritti della foto sono miei che l'ho scattata quindi nessun altro tranne me la può vendere. Però io per venderla ho bisogno dell'autorizzazione della persona ritratta. Quindi motivo classico per cui un ritratto di una persona viene rifiutato è che manca la liberatoria allegata. La liberatoria è un foglio che le piattaforme di microstock vi forniscono e io vi consiglio di scaricare la liberatoria di iStockfoto perché è sostanzialmente universale. Io ho sempre fatto firmare per tutti i miei shooting la liberatoria di iStock e ho riscontrato che quella liberatoria viene accettata anche sulle altre piattaforme. Quindi quella di iStock è l'unica che ho trovato personalmente che viene accettata da tutti. Mentre se fate compilare la liberatoria di un'altra piattaforma andrà bene per quella piattaforma ma magari non per le altre. Quindi consiglio spassionato usate sempre la liberatoria di iStock che funziona sempre. La liberatoria ovviamente deve essere compilata in ogni sua parte quindi ci deve essere il nome del fotografo che siamo noi che carichiamo e il nome della persona o delle persone ritratte. Nel caso di uno shooting con più persone ci vuole una liberatoria per ogni persona quindi è lungo e seccante lo so ma altrimenti non ve le accettano quindi è l'unico modo. La liberatoria deve essere completata come dicevo per intero e la data dello shooting deve corrispondere con la data che troviamo nei metadati delle nostre fotografie quindi state attenti di aver impostato correttamente la data sulla vostra macchina fotografica perché se scrivete che avete fatto lo shooting, oggi che giorno è? Oggi è il 4. Se scrivete che avete fatto lo shooting un giorno e la vostra macchina fotografica pensa che sia un altro giorno perché ha l'orologio sballato e poi la liberatoria non va bene dovete ricompilarla in maniera tale che vada d'accordo con il file della macchina fotografica perché chiaramente la piattaforma di microstock non lo sa quando l'avete fatto quello shooting quindi si basa sui metadati della schedina della macchina fotografica. Se voi gli mandate una foto sulla liberatoria c'è scritta una data e nei metadati ce n'è scritta un'altra vincono i metadati quindi dovete compilare la liberatoria avendo cura che matchi con quello che si trova poi nei metadati delle fotografie. Questo è importante perché se no di nuovo ve le rifiutano tutte. Tenete conto che c'è bisogno di una liberatoria anche se ci stiamo facendo un selfie. Io devo continuamente compilare una liberatoria anche per me stesso anche semplicemente se sto mandando dei selfie quindi se io mi faccio dei selfie devo compilare una liberatoria con la data corretta ogni volta che ne carico uno. È una regola stupida quanto vogliamo ma di nuovo purtroppo è così. Ovviamente questo fa sì che quando realizziamo uno shooting e cerchiamo di farne il più possibile così abbiamo una liberatoria sola e ne carichiamo tante. Questo va da sé è una cosa in più che vi regalo e che potete sfruttare. Io ci ho perso un sacco di tempo speriamo che voi ne perdiate di meno. Siamo arrivati quasi alla fine e credo che sia il momento migliore per ricordarvi che sto seguendo il filone della fotografia di microstock ma parallelamente sto anche raccontandovi quella che è la strumentazione fotografica e video che utilizzo sovente per cui se questi argomenti vi interessano se vi interessa entrare a far parte del mondo lavorativo fotografico o del design o del video making io vi consiglio di seguire subito questo canale in modo da non perdervi i prossimi aggiornamenti. Veniamo a delle motivazioni che possono essere stupide e banali per cui delle nostre foto o dei nostri video possono venire rifiutati che sono semplicemente colpa nostra ovvero se abbiamo scattato delle fotografie con valori ISO molto elevati siamo abbastanza certi che verranno rifiutate sempre e lì non c'è rimedio perché nel momento in cui andiamo a eliminare il rumore digitalmente con dei software di soppressione del rumore la motivazione del rifiuto cambia ma il rifiuto rimane lo stesso. Infatti ho sperimentato di persona che nel momento in cui vado a ridurre artificialmente il rumore nelle mie immagini la motivazione del respingimento non sarà più che le immagini sono piene di rumore ma sarà che le immagini sono state alterate a un punto tale che non sono più utilizzabili professionalmente quindi se le abbiamo scattate con la luce sbagliata con gli ISO troppo alti ormai il danno è fatto quelle foto sono irrecuperabili e non riusciremo più a venderle. Questa è una cosa che succede molto spesso soprattutto se la nostra strumentazione è carente perché una strumentazione più avanzata anche se scattiamo con valori ISO elevati ci permette di recuperare un po meglio i file e quindi di elaborarli in maniera tale che siano vendibili ugualmente. Se stiamo scattando con strumentazione professionale questo problema ce l'abbiamo di meno. Se stiamo scattando col cellulare sicuramente questo problema ce l'abbiamo tanto e tantissime delle nostre foto verranno rifiutate proprio per questo motivo. Quindi parlando di esposizione stiamo parlando di uno dei tre parametri del triangolo dell'esposizione questi tre parametri entrano in gioco tutti quando sottoponiamo il nostro lavoro per cui se abbiamo sbagliato gli ISO le foto verranno respinte perché c'è troppo rumore. Se abbiamo sbagliato i tempi di scatto parimenti le nostre foto possono essere rifiutate perché se abbiamo usato dei tempi troppo distesi troppo lunghi ci può essere del mosso del micro mosso del mosso evidente e lì le foto vengono rifiutate sempre sistematicamente perché le foto di stock devono essere perfettamente a fuoco. A meno che non stiamo facendo uno sfocato creativo con la scia delle macchine ma quelli sono casi limite però se abbiamo sbagliato i tempi e quindi se la nostra foto non è perfettamente a fuoco anche lì rifiuto sistematico. Ultimo fattore del triangolo dell'esposizione è l'apertura anche lì se la nostra apertura è neanche sbagliata se è inadeguata a insindacabile giudizio della piattaforma le nostre immagini vengono rifiutate. Questa è una cosa che a me succede spesso dico spesso purtroppo quando scatto con diaframma molto aperto. Se io scatto per esempio a 2.8 a f 2.8 spesso le mie immagini vengono rifiutate con la motivazione che troppa porzione della mia immagine è sfocata. Questo perché? Perché come vi dicevo prima non sempre è un umano a fare questi controlli a volte è un calcolatore un computer che fa dei test a campione e se prende in esame una porzione random della mia foto e becca il centro dove c'è il mio soggetto o il terzo dove c'è il mio soggetto mi son salvato mi è andata di culo ma se becca un angolo dove c'è lo sfondo sfocato mi respingeranno la foto con la motivazione che lo sfondo è sfocato per cui possiamo provare a ricaricarla dicendo mettendo nella descrizione che c'è anche lo sfondo sfocato e probabilmente ce l'accettano ma intanto abbiamo perso un sacco di tempo e inoltre la foto può spesso venire rifiutata anche con la motivazione che il soggetto non è abbastanza a fuoco cioè che la profondità di campo non è abbastanza elevata. Questo significa che io magari ho provato a fare un ritratto un po' artistico con la messa a fuoco molto sottile solo sull'occhio quindi con il naso già fuori fuoco e con l'orecchio già fuori fuoco ecco quella foto è molto facile che venga rifiutata perché la porzione di profondità di campo la fettina dell'occhio della persona ritratta che ha fuoco è a loro insindacabile giudizio troppo sottile per permettere a quella foto di entrare nella library di fotografie di microstock quindi anche a questo dobbiamo stare attenti anche questo può essere un motivo di rifiuto. Ovviamente nel video ci sono anche altri parametri ovviamente un filmato shaky con troppa vibrazione viene rifiutato automaticamente e valgono anche nel video tutte le cose che vi ho appena detto per quanto riguarda la fotografia. L'unica cosa nel video a cui dobbiamo fare ancora più attenzione è il contrasto perché abbiamo meno possibilità di correggerlo artificialmente. Dobbiamo fare attenzione all'audio nel momento in cui carichiamo dei video di microstock con un audio di sottofondo vengono rifiutati sistematicamente con la motivazione che c'è un audio inutile che quindi pesa ma è inutile non aggiunge nulla al filmato oppure un audio incoerente perché magari stiamo osservando una scena e si sente gente che parla dietro di noi che stava dicendo cose che non c'entrano niente con la scena oppure peggio ancora perché si sente della musica sopra perché se stiamo facendo un filmato e c'è la radio di qualcuno o una canzone da qualche parte quello è addirittura materiale coperto da copyright e quindi viene rifiutato proprio senza neanche guardare la qualità del filmato. Quindi questi sono tutti motivi per cui i nostri file, le nostre immagini, i nostri video possono essere rifiutati sulle piattaforme di microstock. Probabilmente non sono gli unici motivi, sono quelli che mi vengono in mente, sono quelli che dopo tanti anni sono quelli a cui sto più attento quando carico a mia volta i miei file. A questo punto vi invito nei commenti per farmi sapere se qualcuno di voi ha avuto problemi analoghi, fatemi sapere se caricate da ieri o se caricate da anni, che tipo di foto caricate, che tipo di problemi avete avuto, avete avuto altri problemi che io non ho riscontrato? Le piattaforme vi hanno trattato molto peggio o molto meglio di quanto sia successo a me? Fatemelo sapere in un commento perché sono veramente molto curioso. A questo punto spero che vista la serie che si sta ampliando di video dedicati alle piattaforme di microstock vi stiate un po' appassionando alla cosa. Sento qualcuno che mi dice che ha intenzione di provarci, sono curioso di vedere chi va fino in fondo e chi ci prova seriamente e, perché no, chi riesce ad avere successo. Amici, con questo è tutto e io vi do appuntamento al prossimo video. Al prossimo video